Giulia Delellis fa un'ammissione su Andrea Damante, gli sarò sempre legata. Da quando è apparsa a Uomini e Donne la prima volta come corteggiatrice di Andrea Damante, l'influencer Giulia Delellis è entrata nel cuore di alcuni telespettatori e di moltissimi followers sui social, che la seguono e la sostengono sempre qualunque cosa faccia. Gravità attorno al mondo della televisione da anni e ora è diventata conduttrice di Love Island. In un'intervista a fanpage.it Giulia Delellis ha fatto un'ammissione su Andrea Damante. Sempre grata ad Andrea. Gli sarò sempre legata e sono cresciuta tanto dal punto di vista umano. Love Island. Paragone con Temptation Island. Giulia Delellis. Non sfiderei mai Maria Delellis. Sono già partite le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia di nuovo alla conduzione mentre è attualmente in onda, e lo sarà fino all'inizio di luglio, Love Island con la conduzione di Giulia Delellis, l'influencer con 5 milioni di followers che è riuscita non solo a diventare conduttrice, ma anche scrittrice, anche se il libro non l'ha scritto lei, e attrice in un film uscito nelle sale. Il paragone tra Love Island e Temptation Island è saltato subito all'occhio, ma lei ci ha tenuto a chiarire quanto segue, non sfiderei mai Maria De Filippi. Sono due format diversi e di simile c'è solo il nome. Giulia Delellis. Esordio tiepido per Love Island, non sono qui grazie al gossip, ha voluto precisare Giulia Delellis nell'intervista che ha rilasciato a fanpage.it e parla anche di Love Island, che è stato salutato in maniera tiepida su Real Time dal punto di vista degli ascolti. Il programma ha tutte le carte in regola per piacere al pubblico, che influenzerà le dinamiche del gioco, e conquistare puntata dopo puntata ascolti e share.